nella puntata di oggi di legonomics parliamo di pace fiscale o per sgomberare subito il tavolo da ogni dubbio condono tombale vabbè la tomba è anche in relazione al clima da halloween nel quale stiamo vivendo buon halloween a tutti ma poi parliamo anche perché del perché il clima funebre ha una qualche motivazione in questo periodo presentiamo subito i nostri personaggi i nostri personaggi sono questo mino qua che ha l'espressione un po' accigliata come potete vedere e quest'altro che invece ha una bella corona è felice l'omino con i pantaloni rossi è la persona che paga sempre le tasse l'omino con la corona è quello che non le paga mai allora pagare le tasse in realtà è un dovere civico e con le tasse chiariamolo subito si finanziano i meccanismi di redistribuzione all'interno della popolazione da chi ha di più a chi ha di meno e si finanziano anche i nostri servizi le scuole gli ospedali quindi pagare le tasse è giusto è bene diciamo che ovviamente se c'è iniquità nel senso che qualcuno le paga e qualcun altro no si genera questa arrabbiatura e l'italia è uno dei paesi al mondo con i livelli più alti di evasione fiscale cosa vuol dire qui abbiamo proprio i nostri soldini questa volta che il nostro mino continua a pagare un sacco di soldi di tasse mentre qualcun altro più furbo non le paga e si ritrova tutti questi soldi nel suo cestello la misura proposta dal governo è un vero e proprio condono chiamiamola con il suo nome perché sono tante le possibilità per chi di fatto evade dallo stralcio completo della cartella per debiti fino a 1000 euro maturati dal 2000 al 2010 alla possibilità di rottamare per l'ennesima volta una cartella esattoriale fino alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa rispetto a redditi che non si erano denunciati precedentemente qual è il problema del condono sono due di fatto gli elementi sui quali vogliamo concentrare la nostra attenzione da un lato i costi sociali e costi sociali sono legati al fatto che si crea all'interno della popolazione un senso profondo di ingiustizia che sta la fiducia sta alla base della convivenza civile e questa qua un condone un po una tomba della fiducia perché chi paga le tasse si sente ingiustamente penalizzato rispetto ai furbi che non le pagano questo è un primo aspetto ma un secondo aspetto un secondo costo sociale legato al fatto che se governi e stiamo parlando anche delle passate legislature continuano ad approvare misure di condono diventa anche razionale per l'omino per per le persone per i cittadini di un paese non pagare le tasse potrebbe essere un incentivo quello di non pagarle perché se io so che anche in futuro verrà approvato un condono potrebbe essere un mio interesse non pagare le tasse questi costi sociali in teoria però un condono presenta anche dei vantaggi che sono quelli legati alle maggiori entrate derivate da chi decide di saldare i propri debiti con il fisco e queste maggiori entrate soprattutto quest'anno avrebbero fatto comodo per coprire parte dei soldi necessari a finanziare la manovra qualcuno molti ministri della compagina governativa qui queste maggiori entrate le rappresentiamo con tutti questi bei soldoni mattoncioni verdi aveva addirittura parlato di 20 miliardi di euro in più nel 2019 ma così facendo lo stato può incassare almeno 20 miliardi di euro e vedrà poi se avete seguito il dibattito sui giornali questi soldi sono andati scemando fino a diventare sempre di meno addirittura le ultime stime parlavano di al massimo 3 miliardi e mezzo di euro che comunque sono una certa quantità di denaro ma la cosa un po' sorprendente è che lo stesso governo nel documento che ha presentato a Bruxelles di accompagnamento alle misure della manovra in un punto specifico del documento stesso scrive quantifica quale sarà la maggiore entrata legata al condono per il 2019 e la quantifica in 0,01% del pil cioè 180 milioni di euro quindi non solo i costi sociali sono alti ma anche i benefici che lo stesso governo pensa di ottenere da questa misura sono molto pochi e cresceranno di poco negli anni a venire al massimo arrivando a 0,07% del pil poco più di un miliardo di euro ora qui giriamo proprio la faccia al nostro mino perché lo mino che paga le tasse che prima era arrabbiato adesso si infuria con modalità di incazzatura a Cyan Vegeta mi spiace dover sempre parlare male delle misure di questo governo ma in realtà un economista uno scienziato sociale ha il dovere anche di sottolineare quelli che sono gli incentivi e le distorsioni prodotte da scelte economiche buon Halloween a tutti grazie a tutti